L'arbalete Michelangelo Plus esprime l'apice dell'eccellenza tra gli arbalete artigianali. Questa creazione rappresenta la vetta dell'innovazione produttiva della Roy Sub, situandosi nella categoria premium della gamma Roy Sub, caratterizzata da disegni e progetti su misura. Ogni componente di questo straordinario arbalete si discosta nettamente dagli standard commerciali, nonostante le apparenze possano risultare ingannevoli, a partire dal fusto cilindrico a sezione variabile asimmetrica, un'opera che non può essere considerata ordinaria. Costruito con fibra di carbonio di qualità superiore rispetto allo standard impiegato in ambito marino, il diametro esterno di 34 mm e lo spessore di soli 5 decimi di millimetro sottolineano la sua eccezionale rigidità e leggerezza, rendendolo un'assoluta unicità globale. Ciascun accessorio di questo modello è stato progettato con maniacale attenzione ai dettagli e alla precisione. Le lavorazioni a controllo numerico di ogni polimero assicurano una compatibilità perfetta tra i componenti e la possibilità di allestire tutti i sistemi Roy Sub, consentendo un utilizzo che va dalla pesca leggera fino alla caccia dei pelagici in alto mare. Questa soluzione rappresenta senza dubbio la scelta definitiva per coloro che perseguono l'eccellenza senza compromessi. Tra le principali caratteristiche spiccano il meccanismo in acciaio inossidabile di estrema sensibilità, ineguagliato nell'attuale panorama di mercato, l'impugnatura ergonomica con trattamento anti-grip realizzato con saldatura a mano, il supporto sternale Roy Sub, ottimizzato per fornire un appoggio ampio e comodo durante la fase di caricamento, l'innovativo sistema Shark System, che permette l'aggancio e lo sgancio rapido delle gomme secondarie, con base per avvitare il mulinello. Il ponticello in acciaio inossidabile che preserva il nylon dal rischio di intoppi durante il tiro, il mulinello RS100 dotato di frizione a sfera per un controllo preciso e millimetrico della scorrevolezza, l'anello guida asta con slitta che minimizza gli attriti e mantiene la traiettoria inalterata, la testata Roy Sub con X-stopper, progettata per sostenere elevati carichi, l'alloggiamento porta piombi integrato nel fusto, che consente di regolare il bilanciamento dell'arbalete in base all'asta utilizzata, il kit gomme Roy Sub Fusion K Demo 2, accompagnato da certificato di garanzia e qualità, l'asta HRC con pinnetta di precarica, che permette una doppia funzionalità, in fase di caricamento permette il frazionamento rendendolo molto comodo e in fase di utilizzo permette una configurazione estremamente leggera per i tiri in tana. L'arbalete Michelangelo Plus è disponibile in quattro differenti lunghezze, 65, 85, 100, 115. Il modello 65 Fusion K Demo 2 offre un tiro utile di circa 4 metri dalla punta dell'asta, rendendolo ideale per la pesca nel sottocosta grazie alla sua straordinaria agilità, potenza di tiro e versatilità eccezionale. Un arbalete estremamente corto ma con il tiro fuori dall'ordinario. Il modello 85 copre una distanza utile di circa 5 metri dalla punta dell'asta ed è altrettanto versatile, adattandosi sia alla pesca sottocosta che ai tiri a lungo raggio. Il modello 100 gode della massima fama grazie alla sua versatilità, consentendo un utilizzo che va dall'aguato fino ai tiri in mare aperto su grandi pelagici. Tale modello può essere configurato anche come Fusion K Demo 3, con un'asta da 7,5 oppure 8 mm, per una pesca maggiormente mirata a grandi pesci. Il modello 115 rappresenta l'eccellenza della pesca all'aspetto, configurato come Fusion K Demo 2 e asta da 7 mm per i dentici e le cerni, oppure come Fusion K Demo 3 con asta da 7,5 o 8 mm per pelagici imponenti e la pesca in acqua profonde e oceaniche. Il sistema Fusion K Demo 2 rappresenta il vertice dei sistemi Roy Sub a doppio caricamento, dotato di una coppia di salsicciotti superiori, tipici di tutti i sistemi Roy Sub, e di due coppie di gomme inferiori in demoltiplica, tramite l'utilizzo dei bozzelli Arken 404. Questo sistema utilizza i potenziatori regolabili Roy Sub, che permettono una sorta di rodaggio iniziale delle gomme al 90% della loro potenza, per poi portarla al 100% dopo le prime pescate, in modo da preservare le gomme nuove e creare un progressivo utilizzo, esattamente come avviene con il riscaldamento dei nostri muscoli per non traumatizzarli. Per il caricamento devi solo afferrare i salsicciotti e caricarli sull'asta, poi afferrare le gomme inferiori e tirarle verso l'impugnatura. Il sistema Shark System si occupa automaticamente dell'aggancio delle gomme inferiori al raggiungimento e delle pinnette, semplificando l'intero processo. Analogamente, per un tiro leggero è sufficiente tirare leggermente verso l'alto le gomme inferiori per sganciarle dallo Shark System, riducendo la potenza di tiro del 50%. L'innovativo utilizzo del Dainema tra asta e fusto permette alle gomme secondarie di restare ordinate sul fianco del fusto, senza disturbare l'esperienza di pesca. Questa soluzione consente una rapida riduzione di potenza, agevolando i tiri ravvicinati senza intaccare l'integrità dell'asta. L'arbalete Michelangelo Plus rappresenta senza ombra di dubbio il compagno di pesca perfetto che ogni pescatore desidererebbe avere al proprio fianco. Preciso, affidabile e pratico. Un aspetto di rilevante importanza è che i sistemi Roy si discostano completamente dalla complessità dei sistemi roller e invert. Al contrario, il punto di forza dei sistemi Roy è aver riportato la semplicità di caricamento dei sistemi tradizionali, sfruttando allo stesso tempo la tecnologia più avanzata che esiste nel 2023, ovvero quella dei sistemi Roy SUV. Clicca sul link per accedere alla pagina dedicata sul nostro sito, completa di una serie di video che illustrano le caratteristiche eccezionali di questo arbalete. Al prossimo episodio Grazie. Grazie. Grazie.